Belli chicchi, purtroppo il lavoro e gli impegni mi stanno togliendo tanto tempo, quindi non riesco più a fare così tanti video come prima. Se volete supportare il canale ancora, vi raccomando, lasciate un like, un commento e condividete il video. Ovviamente il vostro aiuto in questo periodo è importantissimo. Prima di iniziare il video, come al solito, volevo parlarvi di OneFootball, l'applicazione che vi consente di rimanere aggiornati su tutto il mondo del calcio, classifiche, calciomercato, tutte le informazioni sul vostro giocatore preferito, la vostra squadra preferita, tutto in un'applicazione totalmente gratuita, che scarichi semplicemente facendo un click nel link qui sotto in descrizione. Buona visione, chicchi. Prego, prego, in Triple Ray. Wow, ma questo posto è magico. Quello è... è il famoso bonsai. Yes, this is the motherfucker bonsai, yes, yes. E lei è... Io so presidente della Roma. No, intendevo lei è quello che si è paccato l'Aleotta. Sono colui che ha salvato a essere Roma. Cioè, sei quello che si è paccato l'Aleotta? Sono quello che ha portato Murigno a Roma. Cioè, sei quello che ha infilato mezzo metro di lingua dentro l'Aleotta? Please stop, don't talk about the Letta Leotta. Ok, scusi, ha smetto. Ma gli ha dato una pacca sul culo? Oh, a canna, porca madò. Va bene, va bene, non sarà B. Mi dica. L'ho chiamata qui perché vorrei sapere se lei è interessato prossima stagione a giocare con AS Roma. Averla qui sarebbe fantastico. Inoltre fa link verde con Murigno. Due portoghesi in Serie A. Mm-hmm. A voglia. Mi piacerebbe popo. Come ben saprà, io ti farò ma... Da quando... So il pischeletto, da quando facevo le sgommate in carrozzina. Oh, this is fantastic informazione. E quale sarebbe il suo ingaggio, per favore? Io vi ho 30. 30 euro? Dai, su, non faccia modesto. No, non intendevo 30 euro, ci aggiunga qualche zero. 30.000 euro? Un pochino tanto. Valuteremo sulla richiesta, ma è tanto per bilancio di AS Roma. Io intendevo 30 milioni. Oh, porco miserio. Oddio, non la vedo più. Che è successo? È cascata dalla sedia? Tutto bene? Sì, eccomi scusi. Stavo raccogliendo foglie preziose dei bonsai. Guardi, sulla richiesta mi sembra un pochino esagerata. Accetta buoni pasto? No, mi dispiace. Questi 30 milioni sono Philadelphia. Che vuol di Philadelphia? Non ho capito. Intendo, sono spalmabili? Ah, ho capito. Spalmabili, Philadelphia. In quanti mesi li vorrebbe spalmà, scusi? 115 anni. E guardi, non per mancargli del rispetto. Io mi alleno, mangio bene, però non penso di vivere altri 115 anni. Vuole un caffè? Oh sì, grazie. Gentilissimo. Ok, glielo metto solo 30 milioni di euro e siamo pari. 30 milioni per il caffè? Mi sembra esagerato. Stessa cosa che ho pensato io nei suoi confronti, mi sembra esagerato. Sì, ma io... Io non so un caffè. Le faccio un'offerta. 10 milioni. 28. 13 milioni. 27. 14 milioni. 26. Non scendo più. 17. 25. Ambo. Terno. Quaterna cinquina tombolo. Non ce so capiccazzo. Che c'entrava adesso, scusi? Come si dice a Roma? Sto cercando di mandarlo in Cacchara. Io sono realmente interessato a venire alla Roma. Valuteremo il suo profilo e le faremo sapere. Ma come? M'ha chiamato lei? Come valuteremo il suo profilo? È lei che m'ha chiamato. Certo, e io sono interessato al suo profilo. Quanto aveva detto che voleva di stipendio? E glielo ho detto. 30 milioni? Guardi, la vedo che sta sotto al tavolo, eh. Ti facciamo che ci vediamo la prossima volta. La vedo abbastanza distratto. Salve, in questo momento il presidente non c'è. La invito a venire la prossima volta. Ma perché si è messo una parrucca? Perché che cosa ha già giro le sue parrucche? Mi sta male? Eh? Che cosa ha pregiudizio, forse, lei? Noi non vogliamo giocatori come lei. Mi dispiace, lei ha licenziato. No, lei può mettere tutte le parrucche che vuole, ma... Ma poi... Come fa a licenziare se non mi ha mai assunto? Presidente? Presidente? Belli chicchi, se il video vi è piaciuto lasciate un botto di like, iscrivetevi al canale, commentate e condividete questo video con tutti i vostri amici. Vi ringrazio di cuore se siete arrivati fino a questo punto del video. Lasciate qua sotto un commento scrivendo secondo voi dove andrà Cristiano nelle prossime stagioni. Noi ci vediamo al prossimo video. Belli chicchi! Belli chicchi! Belli chicchi! Belli chicchi! Belli chicchi! Belli chicchi! Grazie a tutti.